Per procedere all'acquisto di un piano Cloud Hosting, è necessario scegliere dal menu Acquista la voce Domini ed Hosting ed indicare il nome del dominio che vuoi registrare o trasferire. In questo esempio, si è scelto MioNomeDominioDaRegistrare.it. Per avviare la verifica, fai clic su Cerca. Il sistema si accerterà che il nome del dominio da te scelto sia effettivamente libero, come in questo caso. Nello step 2, si procede alla configurazione dell'ordine. Scegli Hosting Multidominio. Nuovo piano Cloud Hosting. In questo caso, si desidera prendere un pacchetto con 4 GB di RAM, sistema operativo Linux, pannello tecnico Plesk. È necessario assegnare un nickname al pacchetto che si sta acquistando, ad esempio Pacchetto 2, e cliccare su Prosegui. Nello step 3 dell'ordine ti sono richiesti i dati dell'intestatario. Tali dati possono essere compilati manualmente, campo nome, campo cognome e così via. Oppure possono essere caricati dall'anagrafica cliente personale, oppure ancora da un'anagrafica cliente precedentemente popolata, o da domini che sono già stati registrati in precedenza. Procediamo con quest'ultima opzione. Il sistema carica in automatico i dati intestatario ed è a questo punto possibile chiudere l'ordine. Nello step finale, viene riproposto il tuo basket con i servizi selezionati. Puoi scegliere se continuare gli acquisti o se chiudere l'ordine. In fase di chiusura d'ordine, sono riproposte le righe di servizi scelti e a questo punto sarà sufficiente flaggare le condizioni contrattuali e concludere l'acquisto. Una volta effettuato il pagamento, il provision dei servizi partirà entro 10 minuti dall'evasione dell'ordine.